salve a tutti ben trovati sul mio canale oggi con questo video vorrei farvi vedere come poter levare i graffi dagli occhiali da vista con con il mio prodotto preferito si chiama Seedol e in genere viene utilizzato per lucidare i metalli ma avendo al suo interno una crema con molte microparticelle riesce appunto a levare i graffi da molte superfici vi farò vedere basterà avere appunto un po di Seedol e dei dischetti di ovatta quelli normalmente per struccarsi prima prima di iniziare il procedimento però voglio farvi vedere le lenti contro sole in maniera che riusciate a vedere appunto la lente che è veramente molto graffiata e poi alla fine vi farò vedere il risultato finale ed ecco qua come potete vedere le lenti sono veramente molto graffiate sono occhiali vecchi e vedrete che avremo un risultato eccellente ora iniziamo con il nostro procedimento prendiamo un dischetto sbattiamo il nostro Seedol chiaramente io tratterò solo una lente in maniera che potrete rendervi conto del risultato ok un po di Seedol trattiamo questa lente iniziamo l'operazione non è veramente semplice bisogna giusto girare un pochettino continuare a a passare il dischetto chiaramente dovrete cercare di metterci un po di forza così anche i graffi più profondi riescono ad andare via ok diciamo che penso che dovrebbe essere sufficiente ora aspettiamo che si asciughi vi faccio vedere diventerà completamente opaco una volta asciutto si riconoscerà molto facilmente quando è il momento ed eccoci qua vedete il Seedol si è seccato vedete che ha lasciato una una patina sopra la lente ora cosa dobbiamo fare prendiamo un un dischetto pulito e iniziamo appunto a pulire la lente chiaramente una volta asciutto il prodotto viene via con con estrema facilità e ora ok abbiamo fatto come avete visto non è che ci vuole molto tempo adesso vi faccio vedere al sole la differenza tra la lente pulita e quella che è ancora graffiata eccoci qua chiaramente questo è un occhiale che era veramente molto provato è molto graffiato e le lenti sono vecchie un paio d'occhiali che ha molti anni ora vi faccio vedere guardate con il sole vediamo se riesco a farvi vedere questa è la lente rovinata vedete è veramente quasi non ci si vedeva più e questa è quella dove ci ho passato il sito il miglioramento è veramente evidente e torno a ripetere se le lenti sono molto graffiate potete fare un secondo procedimento spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto potete iscrivervi sul mio canale dove potete trovare altri video ed altre curiosità grazie a tutti e